Sergio, per chi? Va bene, posso farla a Zielinski. Diciamo che è una domanda che farei in generale. Quanto, secondo voi, della squadra, del team, eccetera, conta una preparazione che non sia soltanto sul piano tecnicamente, siete dei giocatori straordinari e non c'è nessun tipo di discussione, quanto una preparazione del team sotto il profilo motivazionale o psicologico, possiamo dire, di gruppo, della terapia, diciamo, di relazionale, questa cosa può contare, mentale, sì, di preparazione mentale anche, sotto pressione, a lavorare sotto pressione, magari la pressione di una partita come Napoli-Verona, che può essere stata così, magari un aspetto che può contare. Quanto, secondo voi, può contare questo tipo di preparazione? Grazie, Sergio. Buonasera a tutti. Sicuramente l'aspetto mentale è molto importante. Ora ci stiamo conoscendo tutti di nuovo, è arrivato nuovo al Natore, il mister Spalletti, con il suo staff sicuramente, sanno benissimo come dobbiamo affrontare tutte le difficoltà, come ci dobbiamo preparare per fare una grande stagione.